Utilizzo di strumenti di analisi per migliorare le performance. Una delle chiavi per il successo nel campo dell'affiliate marketing è la capacità di misurare e analizzare le performance del proprio business online. Questo C permette di identificare ciò che sta funzionando e ciò che non sta funzionando, in modo da apportare le necessarie modifiche e migliorare continuamente i nostri risultati. Per fare ciò è essenziale utilizzare GIL di strumenti di analisi disponibili. Uno dei più potenti e popolari strumenti di analisi è Google Analytics. Questo strumento gratuito ci fornisce una vasta gamma di informazioni sulle visite al nostro sito web, tra cui il numero di visitatori, le pagine visitate, il tempo trascorso sul sito e molto altro ancora. Per utilizzare Google Analytics è necessario prima di tutto creare un account. Una volta creato l'account, è possibile aggiungere il codice di tracciamento fornito da Google al proprio sito web. Questo codice consentirà a Google di raccogliere dati sulle visite al sito e di fornirci le informazioni di cui abbiamo bisogno. Una volta che Google Analytics è stato configurato correttamente, possiamo iniziare ad utilizzare le diverse funzionalità offerte da questo strumento. Ad esempio, possiamo creare report personalizzati per monitorare le performance delle diverse pagine del nostro sito web. Possiamo anche analizzare il comportamento degli utenti sul sito, ad esempio identificando le pagine che hanno il tasso di conversione più alto e quelle che hanno il tasso di rimbalzo più alto. Un altro strumento di analisi che può essere utile nel campo dell'affiliate marketing è Bitly. Questo strumento ci consente di creare link tracciabili, che ci consentono di monitorare il numero di click ricevuti da un determinato link. Possiamo utilizzare Bitly per creare link personalizzati per i nostri contenuti di valore e monitorare quanti click ricevono. Questo ci permette di identificare quali contenuti sono più interessanti per il nostro pubblico e di adattare la nostra strategia di promozione di conseguenza. Oltre a questi strumenti, ci sono anche molti altri strumenti di analisi disponibili che possono essere utili nel campo dell'affiliate marketing. Ad esempio, possiamo utilizzare Gali strumenti di analisi delle piattaforme di social media per monitorare l'engagement e le performance delle nostre campagne di promozione sui social media. Possiamo anche utilizzare gli strumenti di analisi delle piattaforme di email marketing per monitorare l'efficacia delle nostre campagne di email. In conclusione, l'utilizzo di strumenti di analisi è essenziale per migliorare le performance del proprio business online nel campo dell'affiliate marketing. Questi strumenti ci permettono di monitorare e analizzare i dati sulle visite al nostro sito web, il comportamento degli utenti e l'efficacia delle nostre campagne di promozione. Utilizzando queste informazioni, possiamo apportare le necessarie modifiche e migliorare continuamente i nostri risultati.